Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 9 lungo la strada provinciale 49 dell'Alta Valle Seriana, in comune di Parre. Tra le vetture coinvolte, una Lancia Ypsilon, un Alfa Romeo e una Ford. Le persone ferite sono due ragazze di 24 e 28 anni e un uomo di 41. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Blu di Gromo che ha portato i feriti per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Piario. Il sinistro ha causato problemi al traffico, la strada provinciale che costeggia il fiume Serio è rimasta bloccata per più di un'ora. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri.